ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi giocheremo a roblox doors e anche buon halloween conferma non soltanto 10 monetti non c'ho l'idea per foto ok non mi ci compro niente no non c'è tutto ma ecco un attimo mentre nel volume così jumpscare me li godo perfetto è pure rotto c'è qualcuno decisamente no non posso fare niente aiuto vabbè non ci sto capendo più niente doveva prendere le chiave oh eccola non c'è per petto che cosa no non c'è niente oh perfetto non c'è niente questo mi nascondo sotto il letto ho capito bello aiuto mi ha fatto un gran spazio ma che perchè mi sento mi è entrato potrebbe esserci mi è jamscherato soltanto entrare nel letto ragazzi potrebbe esserci qualunque mostro in questa stanza speriamo che non ci sia il rush di già quello che avete visto prima è il rush per chi non lo sappia oh si alza no perchè sta porta non si apre ok qua no no non si apre ovviamente le porte mi si aprono non so cos'è no ah bene sì però dai alcun accendino così mi brucio mi si è abbassato cerco di prendere più monete possibili perchè ne ho zero aspetto ma non c'è nessuno in questo in questo appartamento in queste stanze in questo hotel è un hotel? sì ah non ci vuole niente brigano c'era pure scritto sulla chiave hotel se non sbaglio mh lo distratto ragazzi ciao che bel quadro allegro bruttissimo è che cacchio devo prendermi la chiave c'è qualche chiave credo lì sì no questa è una porta trappola no non si apre per fortuna se no mi sarei già non si apre ma scusa scusatemi da dove da dove la dovrei da dove dovrei uscire da questo inghippo questo dipinto è intitolato Depp bello stanotte non dormirò insodabile ho sentito qualche rumore ho sentito qualche rumore stanotte non devi dormire è a lui devi guardare film horror mi preferisco di no se lampeggia la luce ma scusate stavo qua sopra la chiave non so io che sto cieco oh mio dio ragazzi non si apre non si apre per fortuna mi ha fatto ehm no Ale lo sai perché non si è mai visto uno scheletro che si butta con il pare cadute no non lo so dimmelo perchè non ha fegato no dai lo volevo ah ecco una batteria eh una batteria moneta moneta sto diventando rico andando in questo albergo peccato che non ho nessuna torcia questa è una borsa finta lo so mi è venuto un infarto quando l'ho aperto com'è che mi ero letteralmente bagato nella porta non sulla porta non dietro la porta ma nella porta no oh mio dio no arriva oh mio dio lo so io vediamo monete fuori che sto diventando ricco Ale, sai come trascorrono la domenica un licandro che è un vampiro? Perché mi fai st... per barbelletto? Lo sai o no? No Visitano le mostre Ti stai sforzando di non ridere, lo vedo Lo vedo anch'io Come si toglie? Oh, per fortuna, sennò ero Finiamo la batteria Oh, monete Lo preso da solo Non c'è nessuno Mi era venuto un infarto Dove? Dov'è? Sto cretino Lo sento psù Dove sta il cretino? Dove sta psù? Oh, monete, un monoteo un infarto Dove sta sto psù? Quanto lo odio Da notte quando dormerò Mi è solito un bruglio per la schiena E manco se Ti apparisse Un mostro in faccia Monetine 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 Tonio Non c'è niente Mi rubo tutto l'hotel No, i luci stanno lampeggiando, hanno lampeggiato Chi è arrivato? Rush Era Rush Che brutto No, aiuto Non ci vedo No, no Ma vaffancina Proprio spaventosa questa mappa Mi ha salito un brivido per la schiena E manco quando salta un mostro in faccia No Non ci vedo No Brucia Raffancino Raffancino Non c'è una porta fina Non è una porta fina Mi va Nulla Nulla C'è una porta fina Non c'è una porta fina ragazzi da poco mi viene il tra poco salto in aria non no Mori che devo per forza andare in uno scantinato questi maledetti Ma allora c'era qualcosa Mettiamo che ho scappato con un po' più Grazie, tra poco si fa alzionaria qua Questa sarà la mia bomba Probabilmente questa è la mia bomba Precisamente Ragazzi sono sicura che morirò di infarto però Di infarto 100% non ci muoio di infarto E lì, tra poco tornano le luci Ma una giata che mi ha tolta Mi ammazzo Dove devo andare? Siamo perso Oh, affancino Da quando è che ci sta sta Ma si è appena aperta Liga Mannaggia Ho paura che sia quello che penso Non è Ace Cioè non è quello della Naruto Come si chiama Quello che fa la Naruto Rani Oh, l'oro Argento e oro Hai Faffancino L'avevo pure sentito Che ci vuole? Che ci vuole? Troppo così se alzionaria qua Non mi fermo contro Non mi fermo contro Non mi fermo contro Di nessuno No, no, no Rush, Rush, Rush Che ti ha fatto la bua? Ah, e mi sono preso pure l'accendino Prima Facciamo un altro tentativo? Sì Prima ci sono molto malissimo Per colpa di Rush Quello che avete visto all'inizio del video Perché non mi sono preso Il grimartello? Un'altra 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 No, c'è. Cosa è strumento? Cosa è strumento? Oss 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 Rush Oss Che bello Carino Rush, sei proprio bellissimo L'affancina Simpaticissimo basta che fai un posto sbagliato e sei morto evviva e vabbè in ogni horror che si rispetti se sbagli paghi ma vuoi sapere una cosa quando ti asica quello che fa quello che fa ecco quello ti togli metà vita se non lo vedi subito perfetto è viva io non sono però viva però io non sono è viva shift no non ci basta mannaggia devo entrare in tutte le stanze aiuto che bello rush vuoi essere mio amico così non mi ammazzo perchè mi smetto perchè mi smetto solo sotto il letto rush vuoi essere mio amico ma vaffancino a che cavo ci mettono meglio l'altro a che cavo la prossima volta c'è un pugno c'è un po' un po' un po' un po' ma prendi in pieno quel mostro quale non si può sapere finchè non lampeggio non mi può sentire non mi può sentire no l'ultima cena di gesù l'ultima pizza party l'ultima pizza di halloween? pizza party bello si l'ho preso la chiave per la stanza 3 cosa hai Ansolo? nel tuo braccio sembrava una pistola si sei sicuro di vederci bene? se ne mancano solo 997 pochissime sto per fare scipi scipi sciapa sciapa credo sei giù andiamo al piano di sopra non ci sta un armadio apri un'altra porta in piedi no no mi sono visto malissimo ah quindi nell'armadio te la scampi? no invece fuori no ma vaffancina cos'era quello? i 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 scontriamo che non ci vengono fa paura quando passa questo qua pochissima dove devo andare no questa è una porta trappola bello dove sta? dove sta? ma che cacchio? non lo vedo non lo vedo mannaccia adesso devo andare in una di queste porte bellissime le porte però questi cavoli questi cavoli che ci rigioco mi sta salendo un rivido con la schiena in cantina? in cantina succedono cose brutte lo sai? si in tutti i film horror si soprattutto quando si spegne la luce vabbè mi film horror a dire il vero la esplodi nella cantina frica ho paura peccato che i mostri mi vedono per forza voglio fare la naruto run questo non era questo ripasso chi era? era un altro mostro è proprio ben frequentato questo albergo uomo sentimentale stiamo tornando indietro incredibile ci bene mi tutta di più riga di più non c'è nessuna armada bellissima Quattro? l'avevo vista malissimo quanto odio queste robe quando devi per forza perché non mi sono preso i martelli non mi martello io ma nei libri non c'è nulla di nascosto una libreria no la libreria c'è il boss della libreria ed è anche il più difficile credo rega non lo so se è il più difficile però ditemelo labirinto 23 24 che portare a quella di prima lì da probabilmente oggi mi prenderò un piccolissimo jamster un po' è un po' è un po' è un po' è un po' un po' è 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 un po' un agio la batteria quante monetine un agio la batteria un brivido per la schiena si è spaventato mi è tolto metà vita viva prendiamo la mia salute non proprio ma non c'era modo di sapere che non ha sposto la macina ok ti sei salvato mi ha fatto un gioco no di nuovo no basta è nascosto nell'armadio? si con me e perchè ti chiedi in armadio con lui? no forse perchè voglio morire aiuto aiuto non ci vedo aiuto non ci vedo non ci vedo dai un armadio mi piace mi piacciono gli occhi uccidimi rush quanto lo odio rush dai che cacchio ciao a tutti ragazzi ci vedremo nel prossimo video ciao e felice halloween ah e felice halloween ciao ah e felice halloween Grazie per la visione!